seconda edizione di ora tg bentrovate voi tutti apriamo il giornale con l'aggiornamento sui dati covidi in sicilia 89 nuovi casi e nelle ultime 24 ore nella nostra isola ma 71 di questi sono migranti l'isola prima per incremento di casi comunque nel contesto nazionale seppure da molti lati si dice questo dato è appunto drogato dalla presenza dei migranti l'assessore alla salute razza tuona pozzano oggi 64 migranti positivi davvero questo non è possibile nel report complessivo a catania si segnalano 5 nuovi migranti oggi appunto nel nella provincia etnea vediamo insieme il servizio comincia a farsi problematica in sicilia la situazione relativa ai contagiati del covi di 19 tanti forse troppi i casi che si registrano normalmente e che vedono coinvolte persone che arrivano dall'estero dove sono stati in vacanza immigrati giunti clandestinamente sulle nostre coste e anche siciliani a pozzallo 71 i positivi tra i migranti che portano i nuovi casa 89 e fanno della sicilia quella con maggiori problemi c'è poi il caso della dipendente dell'ufficio smistamento alle poste di palermo che accortasi di avere la febbre ha attivato la procedura prevista in questi casi ed è stata sottoposta a tampone che è dato esito positivo e quindi si trova a casa preoccupazione è sorta naturalmente tra i circa 50 colleghi dello stesso settore e l'azienda ha subito avvertito l'asp per attivare i protocolli ed i dipendenti aspettano a casa subito sono stati sanificati i locali di via la malfa ed è stato anche chiesto a quante si trovano in ferie di rientrare per poter effettuare i servizi montano però le polemiche in questo caso perché pare che sino a questa mattina siano stati molto pochi tamponi effettuati la cronaca riporta anche molti altri casi di contagio uno a capace una donna una santa elisabetta tre ad acicastello il dato odierno vedi in questo momento 44 ricoverati con sintomi 6 in terapia intensiva 488 in isolamento domiciliare fortunatamente dall'inizio della epidemia è rimasto basso il numero dei ricevuti che sono 284 anche se non dovrebbero esserci numeri di questo genere tutta questa situazione ha messo in allarme le autorità e particolarmente l'assessore alla salute rogero razza che ha inoltrato formale protesta presso il governo perché non è giusto che la sicilia paghi lo scotto della sua posizione geografica che dopo aver accolto i migranti dopo aver accolto tante persone si ritrova poi a pagarne in momenti come questo determinate conseguenze adesso ci spostiamo nel messinese più precisamente a caronia proseguono le ricerche di joele sparito assieme alla mamma da oltre una settimana poi la mamma era stata ritrovata purtroppo cadavere sabato scorso oggi l'autopsia per capire alcuni dei misteri della vicenda che purtroppo segna una grande tragedia per la nostra regione continuano nella zona di caronia le ricerche del piccolo joele volontari di protezione civile forze dell'ordine vigile del fuoco soccorritori sono alla ricerca del piccolo bimbo di quattro anni scomparso ormai da oltre una settimana da quando assieme alla mamma era stato notato scavalcare il guardrail dell'autostrada messina palermo da qui l'appello del procuratore di patti angelo cavallo chiunque abbia visto qualcosa contatti la procura della repubblica il titolare dell'inchiesta per omicidi e sequestro di persona sulla morte della dj viviana parise sulla scomparsa del figlio di quattro anni joele che dunque la collaborazione delle due persone che avrebbero riferito a gente sul posto di avere visto una donna con un bambino scavalcare il guardrail hanno fatto un'opera meritoria fermarsi per vedere se qualcuno aveva o meno bisogno di essere soccorso ma adesso parlino con noi perché non sappiamo chi sono ed è strano ha aggiunto cavallo che nonostante il clamore mediatico non si siano ancora presentati o non ci abbiano contattate intanto l'autopsia sul corpo di viana parisi la 43 anni dj trovata morta nelle campagne di caronia sabato scorso potrebbe fare luce su parte dei punti oscuri all'esame autoptico è stato chiamato anche una ematologa ligure che analizzando il tipo delle larve ritrovate sul corpo della donna tenterà di stabilire il momento della morte se il cadavere sia stato o meno trasportato da un luogo ad un altro l'ematologa questa mattina nelle campagne di caronia ha prelevato alcuni reperti che si spera possono dare le giuste indicazioni all'esame cadaverico che è condotto dal medico legale elvira spagnolo ventura e dalla professoressa daniela sapienza all'ospedale papardo di messina l'esame servirà a chiarire le cause del decesse quando lo stesso è avvenuto in centro di barche un accidentale nel primissimo pomeriggio di oggi a santa maria la scala frazione marinara di acireare la gita in barca la puzza di benzina forse l'attivazione dei contatti elettrici per far uscire gas una scintilla la vampata l'uomo e la donna che erano a bordo si gettono in mare nel tentativo di schivare le fiamme che in un baleno avvolgono la barca e poi un secondo natante attraccato al fianco dell'imbarcazione già devastata dal fuoco l'uomo attinta le gambe e iniziali sono sm si getta in acqua dicevamo aiutato da altri raggiungerà la vicina riva dove sarà successivamente medicato prima di essere condotto al canizzaro di catania per lui ustioni di secondo grado in oltre il 30 per cento del corpo è accaduto oggi nel porticciolo di santa maria la scala frazione 10 reale poco dopo le ore 14 il roga accidentale tra lo stupore di quanti si trovavano sulla battigia o sullo lungomare scalotto a fare il bagno le urla le fiamme il fuoco il fumo che scavalca la timpa l'arrivo dei pompieri del distaccamento 10 reale che iniziano le operazioni di spegnimento prima ancora che le altre barche possono alimentare l'incendio arriva pure la guardia costiera di santa tecla i carabinieri la protezione civile le ambulanze a sirene spiegate si teme il peggio si saprà poi di un unico ferito all'ombra della stela che ricorda la madonna della scala sul posto anche due vigili del fuoco liberi dal servizio che si trovavano casualmente nelle vicinanze uno di essi ha messo a disposizione il proprio gommone ormeggiato nello stesso porticciolo dal quale è stato possibile effettuare parte dello spegnimento dell'incendio di una delle due barche che a causa dell'incendio appunto aveva spezzato gli ormeggi ed era in fiamma la deriva le operazioni di spegnimento portano via oltre due ore al porticciolo di santa maria la scala arriva anche l'unità navale dei vigili del fuoco di catania per mettere in sicurezza l'aria momenti di paura nel piccolo borgo marina racese i danni certamente ingenti ma comunque limitati per quello che è stato e che invece avrebbe potuto essere l'alto agenziale di catania è rimasta paralizzata a causa di un incidente che ha provocato il ribaltamento di uno camion nel sinistro stradale si è registrato nel pomeriggio all'altezza dello svincolo per san giovanni galermo al chilometro 5,3 cento in direzione di siracusa le code per almeno una decina di chilometri si sono formate in direzione appunto aeroporto poi nella tardo pomeriggio la polizia la nasa riuscita sono riuscita a liberare la carreggiata dunque è ripresa la circolazione accoltellamento ieri sera a catania nell'aria cerniera tra il quartiere luci rosse di san berillo e la city catanese cioè il corso sicilia i residenti continuano a chiedere maggiore protezione notturna ancora sangue sull'asfalto dell'incrocio tra le vie sturzo e luigi rizzo siamo nel cuore di catania a pochi passi dalla city di corso sicilia anche a pochi passi dalla quartiere a luci rosse di san berillo dove gambiani e nigeriani si contendono lo spaccio di droga e il mercato ricco fiorente della prostituzione i cittadini chiedono da tempo misure notturne di controllo del territorio atte a garantire la tranquillità dei luoghi ieri sera un nuovo accoltellamento poco prima delle ore 23 sul posto le ambulanze la polizia i carabinieri un corpo in terra le nuove proteste di chi abita in quell'area c'eravamo visti perché noi chiedevamo la pattuglia fissa delle forze di polizia in questo punto perché segnalavamo l'elevatissimo tasso di criminalità in quella che è diventato il capoluogo della criminalità catanese sono questi 15 metri di strada di via luigi rizzo che vanno tra la via luigi sturza e la via di prima in cui la notte succede di tutto contesi centimetro dopo centimetro tra la mafia nigeriana e la mafia gambiana per il una gestisce il traffico lo sfruttamento della prostituzione l'altra il traffico di sostanze superfacenti il colmo è che domenica si erano realizzate due rapine a danni di turisti quindi ci aspettavamo che con un minimo di senso di responsabilità chi ha la competenza per adottare determinati provvedimenti allocasse subito quel presidio di legalità che l'intero quartiere ormai reclama in ginocchio al questore di catania c'è una pattuglia fissa della polizia 24 ore al giorno invece di metterla a controllare caschi cinture di sicurezza in in piazza della repubblica 30 metri da qua chiedevamo di spostarla da la acqua non è stato fatto ieri ennesimo ennesimo ferimento ennesimo sangue sulla strada e poi anche la svalutazione degli immobili e delle attività commerciali ormai tutti i bed and breakfast della zona stanno chiudendo con danni economici irreversibili ed irrecuperabili l'unica speranza è quella di creare un percorso turistico un museo delle macchie di sangue portare i turisti a vedere ieri c'è stato questo attentato qua lo scippo qua la macchia di sangue qua perché se no il quartiere è economicamente finito se non abbiamo capito male come residenti volete anche a questo punto scrive al ministero degli interni è chiaro è chiaro e c'è qua c'è evidentemente dei cittadini che chiedono una cosa e qualcuno che non ritiene di doverla fare siccome i cittadini devono hanno il diritto di esprimere le proprie valutazioni sull'operato di chi è preposto a servizi delicatissimi chiediamo che ci sia una verifica dell'operato di chi ha il compito di garantire sicurezza e ordine pubblico in questa città. A metà luglio c'era stata una rissa con accocci in strada e ancora sangue poi a fine luglio la protesta dei residenti che chiedevano maggiori garanzie e maggiori controlli e che ad un certo punto si erano fronteggiati con alcune rappresentanze dei centri organizzati catanesi che avevano invece rilevato come fossero necessarie maggiore operazioni di accoglienza e di tutela di tutti i frequentatori di San Berillo. Sempre a luglio le operazioni delle comune di Catania tese allo sgombro degli accampamenti che erano sorti in un terreno privato tra piazza Grenoble e piazza della Repubblica. Abbiamo aperto questa edizione del telegiornale parlando di Covid. Il Covid-19 condizionerà anche la festa per la traslazione delle reliquie della patrona di Catania a Catania. Questa mattina sono stati illustrati gli aspetti religiosi appunto del 17 di agosto. Vediamo. L'anniversario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata sarà dettato quest'anno dalle normative anti-Covid-19. La Basilica Cattedrale di Catania verrà aperta di mattina per la preghiera, per l'adorazione eucaristica, per la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione e per le benedizioni giorno 17 agosto dalle ore 9 alle ore 12 tutto nel rispetto come dicevamo delle norme anti-Covid-19. Saranno 34 appena i posti disponibili innanzi la cappella per assicurato il ricambio anche attraverso un percorso obbligato che sarà controllato dai volontari della Basilica. Alle 17 sempre del 17 agosto a porte chiuse e in diretta streaming sui canali dell'Arcidiocesi e della Basilica Cattedrale nella cappella di Sant'Agata si terranno prima la preghiera del rosario e di seguito la celebrazione eucaristica preseduta da Sua Monsignor Salvatore Cristina, arcivescovo di Catania. Questo in estrema sintesi il programma dell'anniversario della traslazione delle reliquie della patrona di Catania. La festa cristiana è incontro, incontro tra i cristiani, incontro della comunità e della comunità nel nostro caso con Sant'Agata. Il popolo di Sant'Agata sa che in cattedrale sono custodite le reliquie di Sant'Agata, sa che dietro quel cancello, dietro quella porta Sant'Agata, lì sono le reliquie che sono sempre in attesa della nostra presenza, che sono lì a significare l'accoglienza di Agata delle nostre preghiere, delle nostre suppliche che presenta al Signore. E quelle reliquie sono lì e anche se quest'anno non le potremo vedere per una giusta prudenza, questo non significa che sia meno festa. La cattedrale tutta la mattina del 17 agosto sarà aperta e per accogliere i fedeli che desiderano venire a pregare Sant'Agata. Quel popolo di Sant'Agata che sono certo, poiché non è idolatra, sa bene che le reliquie sono lì e anche se per questa volta non vedrà l'immagine e il volto, cosa che ci duele perché ci siamo tutti legati, anche io stesso ci sono legato, tuttavia pregherà lo stesso e sono certo che otterrà anche tanta grazia offrendo il sacrificio del non poter vedere per quest'anno l'immagine e il busto della patrona. E però comunque si potrà partecipare grazie ai New Media che comunque daranno il contatto, il fil rouge con questo 17 agosto tant'amato dai catanesi. Al pomeriggio un'unica celebrazione attraverso i social dell'Arcidiocesi e della cattedrale si potrà mettere in collegamento per partecipare a partire dalle 17 alla preghiera del rosario che faremo all'interno della cappella di Sant'Agata e subito dopo alle 18 la celebrazione della messa che sarà presiduta dall'Arcivescovo. Sarà così una occasione, così come questa esperienza di pandemia ci ha dato modo di realizzare più volte durante questi mesi trascorsi, sarà un'occasione per sentirci tutti uniti attorno all'altare della patrona dove l'Arcivescovo che è il pastore della nostra chiesa presiderà l'Eucarestia e anche se sarà doloroso non poter fare la comunione ci sarà una comunione spirituale che ci metterà tutti insieme. Dunque nessuna celebrazione pubblica né manifestazione esterna. Prima ancora giovedì 13 agosto per ricordare e comprendere meglio il senso dell'anniversario dalle ore 18 e 30 alle ore 20 si svolgeranno a videoconferenza dal tema la traslazione delle reliquie di Sant'Agata tra storia e tradizione trasmessa in Gretta, anche questa sui canali social della Basilica Cattedrale. Interverranno Monsignor Barbaro Scionti, docenti universitari Arianna Rotondo e Tancredi Bella. Anticovid, le normative anticovid dunque detteranno anche il feragosto, i comuni si stanno attrezzando per evitare la diffusione del contagio anche durante il periodo appunto del feragosto solitamente molto vacanziero e anche affolla le località turistiche. Vediamo come si sta preparando a Cireale. Sarà un feragosto sotto legge della moderazione della cautela. Mentre in queste ore in Sicilia i tamponi rilevano nuovi positivi al coronavirus, nel Catanese cresce l'apprensione. Dopo il bimbo risultato positivo in un asilo nido, l'ASP sta tracciando i contatti già in isolamento educatori e familiari. Vicende che fanno da sfondo ad una vita che deve andare avanti anche se con la guardia alta. Per questo, dopo la stretta del governatore Musumeci, ai comuni siciliani il compito di organizzare le attività di vigilanza e di controlli mirati, in particolare far rispettare le nuove regole dell'ordinanza anti-assembramento in occasione del ferragosto. Sì, per questo ferragosto, in virtù appunto della situazione che ancora persiste di cautela a causa appunto del Covid, i servizi della Polizia Municipale verranno potenziati e ci sarà una particolare attenzione sulle frazioni. Ad Acireale continua a riunirsi periodicamente la task force che vede all'opera in modo sinergico Polizia, Carabinieri, Finanza e Vigili Urbani, sotto il coordinamento del locale commissariato. Per la Polizia Municipale sono stati già riorganizzati i turni con un allungamento alle ore serali, oltre le 20. Sulle frazioni, visto che il centro tende per questa festività a svuotarsi, anche perché non vi sono manifestazioni previste proprio per questo ponte festivo. Pertanto i controlli saranno più serrati nelle frazioni. Fortunatamente le nostre coste non sono tali per cui ci sono particolari rischi di campeggi o assembramenti in spiaggia, visto appunto la conformazione rocciosa delle nostre coste. Tuttavia i controlli ci saranno, raccomandiamo alla cittadinanza di attenersi alle disposizioni. Controlli capillari nel territorio, già a partire dal mattino in un momento di particolare affluenza e traffico sulle strade di accesso alle frazioni e alle località balneari e nelle principali arterie cittadine. Sebbene nel contesto di un'estate anomala successiva al lockdown della primavera sia un fattore positivo, la ripresa delle presenze richiede un notevole sforzo in termini di vigilanza e rispetto delle regole. Dall'ordinanza come cambia un po' le abitudini che si dovranno tenere sotto controllo? Vogliamo dire anche cosa si rischia? Allora, come è noto, le disposizioni normative riguardano anche l'ospitalità da parte dei locali, dei propri clienti e degli utenti. Ci sono delle cautele da rispettare, delle prescrizioni da rispettare, sia negli spazi che è proprio nell'attività di somministrazione e raccomandiamo a tutti di attenersi, sia esercenti dell'attività, sia clienti, nell'interesse di tutti. Stiamo svolgendo un'opera anche preventiva che riteniamo sia importante, di collaborazione proprio con il cittadino e sarebbe auspicabile che non ci sia costretti poi a svolgere anche un'attività repressiva perché le sanzioni ci sono e sono anche delle sanzioni abbastanza pesanti, quindi raccomandiamo a tutti di attenersi. Un piano DO che riguarda la viabilità. Verranno rafforzati anche i servizi di viabilità, soprattutto in punti nevralgici come il semaforo Bellavista, il semaforo di guardia, ecco, verrà presidiato dalla Polizia Municipale, soprattutto negli orari di punta, per rendere l'accesso e il transito nel nostro territorio più agevole. Lo scivolamento del fianco orientale dell'Etna agisce come una valvola che favorisce o inibisce le eruzioni nel settore immediatamente a monte. La variazione della velocità di scivolamento stesso può essere considerata come una sentinella per eventuali eruzioni parossistiche o processi di intrusione di magma e quanto emerge da uno studio di un team di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, una complessa analisi multidisciplinare, hanno spiegato e evidenziato come il continuo movimento del fianco orientale dell'Etna ha favorito nel tempo l'intrusione di magma nell'aria immediatamente a monte e il collasso stesso, nelle zone di frattura come per esempio nel nord-est e a sud dell'area sommitale del vulcano. La geometria e l'ubicazione di questi volumi di magma appare coerente con antiche strutture tettoniche messe in evidenza dei dati di tomografia sismica che disbloccano la crosta sotto l'edificio vulcanico, favorendo così la risalita di magma verso la superficie. A Giarre, nel Catanese, lo sfogo dei residenti del quartiere Satellite di Macchia reclamano scarsa pulizia, mancanza di scerbatura. I topi che passeggiano indisturbati, le blatte che ormai sono di casa, cattivi odori che si propagano infestando l'intera area e poi il rischio incendi altissimo qui dato che la scerbatura a quanto pare non si effettua da anni. Sono esausti i residenti del quartiere Satellite di Macchia, siamo a Giarre dove gli abitanti hanno deciso di far sapere, una volta per tutte, all'amministrazione comunale che vivere quotidianamente nel degrado è un'indecenza. La pulizia carente c'è poi il problema dell'assenza di illuminazione in diversi punti. Sostituire però le lampade fulminate è praticamente impossibile proprio perché la vegetazione è fuori controllo e impedisce ai mezzi di operare per ripristinare i guasti. Puh, non lo so, noi ci puliziamo. Ora io me l'ho scippato, io ho l'erba vicino a me, ora fu operata io e non ho potuto scippare qui l'erba. Perciò non è che io mi può crescere quando ho da Parma. Non è uno per puliziare l'albero, non è uno per puliziare niente. Lo che non avvene era puliziare i cani perché non si fanno male noi. Chiedo chi di puliziare i cani perché siamo una ragione, non siamo cristiani noi altri. Siamo animali perché siamo cristiani, puliziavano. Io sono più privato di aprire la sinistra che le vasce ci abbanno. Io come aprire la sinistra l'erba non c'è se entra. Perciò non è giusto da fare questo bordello che c'è il cani. Andavano sei anni, quattro anni, sei, dieci anni, non li tagliavano. Non puliziavano mai, mai e poi mai. E poi non si vive. Gli cosa dice non ci vuole provi. Noi vorremmo essere considerati persone perché la situazione in cui viviamo non è da persone. Dobbiamo avere paura di aprire le finestre, di uscire anche semplicemente di casa perché ci sono topi, blatte, a volte anche serpenti. Lei vivrebbe in una situazione del genere così da anni, anni veramente. Ogni tanto ce ne siamo occupati noi privatamente ma lei capirà benissimo che essendo giurisdizione del comune è il comune che se ne deve occupare. Quindi posso stare io ogni giorno a pulire i miei vicini di casa? È una cosa ingiusta. Poi la maggior parte sono anziani, hanno anche paura, si spaventano anche a stendere un abitino fuori. Non è normale, non è assolutissimamente normale. Il cammino una volta l'anno si pulisce perché ha da tanti anni che non si pulisce. Ci pensiamo noi ogni tanto però non è giusto. A parte l'erba c'è anche chi butta la spazzatura. Da anni qui non vengono fatti lavori di scerbatura, non viene fatta la normale manutenzione che dovrebbe comunque essere il punto cardinale per il decoro di una città e per un quartiere popoloso come il quartiere satellite. Qui vivono circa 100-150 nuclei familiari e come ho potuto sentire, come abbiamo potuto sentire sono tutti sul piede di guerra perché sia con le temperature torride che per la presenza di animali potrebbe prendere fuoco questa zona non discerbata. Dov'è il sindaco? Dove sono gli assessori? Dov'è la giunta? Quanto servono? Giovanni Lamagna è il nuovo presidente di Catania Rete Gas, la partecipata del comune che gestisce la distribuzione del gas nella rete catanese. Fa parte del gruppo storico di Forza Italia da due anni era nel consiglio di amministrazione di ASEC che di recente ha cambiato denominazione. Accogliamo con soddisfazione e orgoglio la notizia della nomina di Giovanni Lamagna, presidente di ASEC Trade, società partecipata del comune di Catania. L'amministrazione catanese dichiara Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania, in provincia ha voluto dare spazio, innovazione ed energia fresca nella prospettiva del risanamento e del rilancio dell'ente. Torniamo ad Acireale, la valorizzazione del carnevale, la sua cittadella, oltre al recupero della cappella di Santa Venera, i temi a centro dell'incontro tra il sindaco, il presidente della regione e la città barocca potrebbe entro un paio d'anni rientrare nella rete UNESCO del Val di Noto. La recente visita del governatore musumeci in occasione di uno degli eventi culturali più seguiti della stagione accese ha consentito al primo cittadino Stefano Ali di sottoporre all'attenzione della regione alcune questioni ritenute di grande valore per il futuro della città e per le quali fondamentale il sostegno dell'esecutivo. A partire dal carnevale, oggetto di rivisitazione proprio negli ultimi anni e la realizzazione della cittadella di quelle attività che farebbero da contorno alla manifestazione di grandi richiami. L'ho invitato a fare un giro per il centro di Ecireale dove c'erano diverse manifestazioni in corso, c'era l'esposizione dei carri allegorici, c'era l'esposizione delle opere sul festival delle arti effimere e c'era la discoteca in piazza con le cuffie. Particolarmente importante per la Cireale è il tema del carnevale su cui il comune investe una significativa quota economica e abbiamo chiesto sia un maggiore contributo, quest'anno non abbiamo avuto alcun contributo dalla regione sulla realizzazione del carnevale, ma soprattutto su investimenti di più lunga durata e di maggiore impegno che la cittadella del carnevale su cui il Presidente si è dimostrato attento e ha dato un'apertura. Quindi realizzare la cittadella del carnevale dove oltre che la realizzazione delle opere c'è anche la possibilità di prevedere un museo della Carta Pesta e una scuola della Carta Pesta che possa rappresentare il proseguo per questa attività è importantissimo. Nel dialogo con il Presidente anche la Cattedrale di Acireale, nel cuore barocco della città, i lavori in corso ed in particolare le sorti della Cappella di Santa Venera dove Musumeci ha fatto una tappa accompagnato dal Sindaco. Abbiamo portato anche a visitare la Cappella di Santa Venera che è stato oggetto di infiltrazione su cui già siamo intervenuti, è intervenuta anche la parrocchia. Quest'anno una parte del contributo per la Festa di Santa Venera l'abbiamo devoluto circa 10.000 euro per la sistemazione degli affreschi e anche su questo il Presidente si è detto disponibile a prevedere una somma per un intervento più significativo e ha anche posto la firma sui votanti della Cappella di Santa Venera come luogo del cuore del FAI. Tutto questo è importante perché dà una prospettiva alla nostra città. Sul fronte turismo acireale esclusa nel 2001 dall'Associazione dei Comuni del Tardo Barocco della Val di Noto, patrimonio UNESCO, adesso aspira a buon diritto a recuperarne l'ingresso proficuo, afferma lì l'incontro con il Sindaco di Noto, comune capofila della rete riconosciuta dell'importante organizzazione ONU tra i siti della lista mondiale. Aiuterà anche nella realizzazione attraverso un bando che già è stato realizzato e affidato alla realizzazione del dossier per permettere l'inserimento di acireale perché è una procedura questa di essere inseriti all'interno dei siti dell'UNESCO complicata e quindi ci vogliono anche aziende specifiche, forse quelle che sono mancate a suo tempo e che non hanno permesso l'inserimento di acireale. Quando eventualmente potrebbe realizzarsi? Lui parlava di un paio di anni e il tempo perché l'UNESCO decida, non è un'attività semplice, però noi già da novembre dovremmo riuscire a presentare questo dossier e su cui poi lavorare anche con l'UNESCO per avere una risposta favorevole. A quel punto cosa cambierebbe? Cambia molto perché il territorio di acireale rientra in un contesto più ampio perché è un fuori Europa, non conosce direttamente acireale, ma andare a visitare un territorio che è patrimonio dell'UNESCO, noi abbiamo tante fortune perché anche l'Etna è sicuramente un grande attrattore, può accrescere la nostra potenzialità. Due uova di caretta a caretta sono state ritrovate sulla spiaggia di San Marco a Calatabbiano nel tratto prossimo al Torrente Minissale a fare la scoperta un operatore ecologico che durante il servizio di pulizia della spiaggia ha notato profondi solchi sull'arenile proveniente dal mare. Il comune di Calatabbiano dopo aver ricevuto la segnalazione ha informato l'Unità di Sanità Pubblica Veterinaria del distretto di Giara e l'UVF che da anni si batte per la salvaguardia e la tutela di questa specie a rischio di estinzione nelle acque territoriali italiane. L'aria è stata, come abbiamo visto, prontamente transennata, sarà monitorata costantemente in attesa che le uova si schiudano 50-60 giorni dalla nidificazione. Eccoci dunque dopo lo spazio pubblicitario, non ci sono novità dalla nostra redazione, dunque termina qui la seconda edizione del telegiornale di Oratg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di ReTV che avete seguito sul nostro sito internet sulle pagine social, Facebook e YouTube di ReTV. Grazie per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento con Oratg domani alle 14. Cielo sereno e splendente sulla nostra isola. Lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, mercoledì 12 agosto. Il tempo sarà sereno su tutta l'isola, i venti deboli, i mari calmi. Uno sguardo adesso alle temperature. Sul capoluogo etneo avremo una minima ed una massima rispettivamente di 24 e 34 gradi centigradi. Ma le città più calde saranno Siracusa con 36 gradi, Agrigento con 35 e a seguire il capoluogo etneo, Raguse e Caltanissetta appunto con 34 gradi centigradi. La città più fredda e nottata sarà come di consueto Enna con 15 gradi centigradi. La città più fredda e nottata sarà come di consueto Enna con 15 gradi centigradi.